L'anticiclone africano che ha portato la stabilità degli ultimi giorni si va ritirando sul Mediterraneo lasciando spazio all'avecinamento di una saccatura atlantica che porterà correnti sud-occidentali a tratti umidi e instabili nel fine settimana. Per sabato prevediamo una velocità variabile con maggiore copertura sulla zona alpina e prealpina. Saranno possibili temporali sparsi, non escluso anche qualche temporale forte. Le temperature caleranno probabilmente alle massime di un paio di gradi rispetto ai giorni precedenti. Domenica ancora novosità variabile ma concorrenti da nord, quindi il tempo sarà un po' più stabile sulle Alpi, mentre sulla fascia prealpina in pianura e costa sarà ancora possibile qualche rovescio o qualche temporale, pur alternato a prolungate fasi di tempo migliore. Temperature ancora piuttosto fresche, perdiamo un altro paio di gradi, le massime saranno attorno ai 28-29 gradi in pianura, attorno ai 27 sulla costa. Da lunedì il tempo comincerà a migliorare con schiarite sempre più ampie, cielo in genere poco nuvoloso, ma saranno ancora possibili rovesci temporali sulla fascia prealpina e sulla fascia orientale, in particolare nel pomeriggio. Dallo Asservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto.